Iniziamo dagli anni 80 con Comprami Orchestra Popolare Aniene. Se l'uomo ho sbagliato, se non sai hai stato un artista o non sai cos'è la conquista, se per lei sei stato un amico, se non hai lo sguardo ed affitto, se non vuoi stare da solo e da qui hai fatto il regalo. Comprami, io sono in vendita e non mi credo che raggiungi per me, un po' da un muro, un attimo, un uomo semplice, una parola, un getto, una poesia, basta per venir via. Felicità è una canzone pazza che cantare li va, fa una musica che prende e che cantare li fa. Se non sai un film a colori, porto via le frasi agli autori, se per te il sabato sera no, c'è mai una donna sicura. Se non hai la tua rubrica o non sei più di un'amica, se non sai andare lontano tu e non ti porta la mano. Comprami, io sono in vendita e non mi credere, irraggiungibile, un po' da un muro e un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, basta per venir via. Felicità è una canzone pazza che cantare li va, una musica che prende e che parlare li fa. Comprami, eh?